Attraverso la pagina web di Indice Alfabetico attraverso il sito www.tinelli.eu aggiornata costantemente, c'è sempre il link nella descrizione di tutti i video, trovate già la voce Arcovaleno, ma quanto segue è un'ulteriore spiegazione da prendere bene in considerazione. Ricordo a tutti e a tutte che oltre a questo canale YouTube c'è anche il secondo canale, inoltre tre canali supplementari senza alcun divieto di Brighton. Se i commenti sono ancora aperti nella descrizione si leggono alcune informazioni tipo Tutti i messaggi vengono trattenuti eccetto gli utenti designati. Prima di postare domande consultate la pagina Indice Alfabetico, se c'è già la risposta in Indice Alfabetico il commento viene cancellato. I messaggi per questo video sono attivi solo fino al caricamento del video successivo, dopodiché vengono disabilitati. Inoltre il libro Il Risveglio è sempre a disposizione e in pronta consegna. Collaboro su Telegram con nuovo Canal 104 Plus, alimentazione, cucina naturale, energia femminile, istruzione parentale e molto altro. Il valore monetario anche solo di un buon caffè è sempre ben gradito come sostegno. Grazie. L'arcobaleno Secondo la narrativa l'arcobaleno si forma quando la luce del sole si divide nei suoi colori che lo compongono. Quando si rifrange entrando dentro le goccioline d'acqua sospese nell'aria, si riflette nuovamente sul retro delle goccioline e si rifrange nuovamente uscendo dalle goccioline, ma quando si vuole duplicare questo fenomeno con una luce artificiale, gli esperimenti non funzionano. A meno che non ci si affidi ad un prisma il quale divide i raggi di luce che mostrano i colori come in uno spazio tridimensionale, come fanno gli arcobaleni. Ovviamente direte «Oh, ecco, l'arcobaleno all'interno!». Ma gli arcobaleni non sono proiezioni prismatiche quando si formano come archi ben distanti che inoltre si spostano relativamente alla posizione dell'osservatore. I veri arcobaleni sono eventi particolari che non vengono considerati in questi esperimenti. Vi siete mai chiesti perché gli arcobaleni sono visibili solo all'aperto e mai all'interno? Certo che è facile rifrarre la luce con l'uso di un prisma e proiettare i colori divisi su una superficie opaca, ma il vero arcobaleno non si può mai dimostrare senza il sole o in alcune situazioni particolari usando una seconda fonte di luce, se non uno specchio. Se fossero semplicemente le goccioline d'acqua a rifrarre la luce come si fa col prisma, dovrebbero emettere i colori scomposti sulla superficie che state osservando. Questa proiezione, come fa il prisma, non si dovrebbe muovere insieme all'osservatore. Senza parlare che anziché formare un arco ben definito, come questo arcobaleno vero, o più archi, dovrebbe proiettare i colori separati da tutte le goccioline che si trovano in aria. Un prisma per ogni gocciolina che si riflette e si rifrange da ogni singola gocciolina, creando così una scena surreale molto simile alla nebbia. Ma la vera forma del vero arcobaleno è apparente quando l'altitudine dell'osservatore è sufficiente per rivelare la proiezione dell'intera forma dell'alone. Se si considera questo come la necessità di esistere una riflessione della forma di luce primaria, per la riproduzione di un vero arcobaleno non si deduce che la luce del sole viene riflessa rotonda? Non è questo che crea la forma e la proiezione dell'arcobaleno? Comprendere questa proiezione è simile all'inizio e alla comprensione della natura del nostro cielo, firmamento, come qualcuno afferma. Può veramente essere che questa struttura che riflette la luce del sole sia quella che provvede alla fonte di luce secondaria necessaria per la proiezione del vero arcobaleno? Ed è il perché è possibile vedere l'arcobaleno solo quando il sole si trova dietro di voi. Fate le vostre proprie ricerche e fatevi sempre delle domande! state le vostre proiezioni del sole